L'obiettivo di questa ricerca è stato quello di valutare se una preventiva sanitizzazione con ozono di cassette di plastica in cui l'uva viene fatta appassire per la produzione di amarone limitasse lo sviluppo di botretesciniera. Questo è un fungo che attacca l'acino promuovendone la marcescenza. La procedura proposta potrebbe quindi diminuire sensibilmente lo scarto degli acini con una ricaduta positiva per l'intero settore vitivinicolo.